21 giugno, giornata internazionale dello yoga. A Chandigarh, nel Punjab, nel nord dell'India, il primo ministro Nerendra Modi ha partecipato assieme a migliaia di persone alla più importante delle manifestazioni previste per oggi. La pratica dello yoga sta vivendo una fase di successo planetario, l'85% di chiloperati che sono donne.